Siamo in Sicilia, puoi darci tre motivi per rileggere Giovanni Gentile? Dunque, il discorso su Giovanni Gentile dovrebbe essere molto ampio e articolato, non foss'altro che per il fatto che su Giovanni Gentile ad oggi pende un'adamnazio memorie. L'adamnazio memorie in forza della quale, dalla caduta del fascismo ad oggi, di Giovanni Gentile non si può parlare, bisogna tacere, bisogna in qualche misura rimuovere, esorcizzare la presenza di questo autore. Io credo che Giovanni Gentile debba essere letto e ricordato per moltissimi motivi, vorrei qui menzionarne almeno tre che riguardano aspetti eterogenei del suo pensiero e che concorrono a fare di lui il più grande filosofo italiano del Novecento. In primo luogo direi che Giovanni Gentile deve essere letto e riconosciuto nella sua importanza filosofica in ragione del fatto che tutta la filosofia italiana dopo Gentile è una filosofia tributaria rispetto alla riflessione di Giovanni Gentile. In questo senso, senza esagerazioni, potremmo avventurarci a sostenere che Giovanni Gentile sta al Novecento italiano come Hegel sta all'Ottocento tedesco. Come tutti gli autori venuti dopo Hegel si posizionano nello scenario filosofico reagendo a Hegel, vuoi metabolizzandone alcuni punti del sistema, vuoi assumendolo a bersaglio critico del proprio filosofare, così nel Novecento italiano dopo Gentile non vi è autore che non prenda posizione rispetto a lui. Addirittura Antimo Negri nel suo pregevole studio su Giovanni Gentile ci ricorda che come dopo Hegel vi furono una destra e una sinistra hegeliane, così dopo Gentile vi furono una destra e una sinistra attualistiche. E come dalla sinistra hegeliana nacque Marx, così dalla sinistra attualistica nacque il Gramsci dei quaderni del carcere, il quale Gramsci molto assimilò di Gentile. Quindi questo è un primo aspetto sicuramente, per comprendere la filosofia italiana del Novecento è imprescindibile rileggere Giovanni Gentile, senza la cui lettura poco o nulla si può veramente chiarire della filosofia italiana novecentesca. In secondo luogo direi che l'importanza di Giovanni Gentile, il motivo per cui rileggerlo, sta nella sua riforma importante della dialettica hegeliana, cioè nella filosofia attualistica, che è il modo in cui essenzialmente si impone in Italia l'idealismo hegeliano, dopo le riflessioni di Spaventa, e in maniera congiunta rispetto alla pur diversa, rispetto a quella di Gentile, filosofia idealistica di Benedetto Croce. I tre grandi idealisti del Novecento italiano, i tre grandi neo-idealisti, come anche potremmo dire, sono Croce, Gramsci e Gentile. Croce liberale, Gentile fascista e Gramsci comunista. Ciò che ci rivela come le categorie idealistiche non siano in quanto tali fasciste, comuniste o liberali, ma possano, a seconda della, come dire, a seconda della declinazione che di esse si prospetta, ad assumere una curvatura diversa. La filosofia dell'atto puro di Gentile mi sembra una filosofia importantissima per il panorama italiano filosofico del Novecento, ma anche come elaborazione originale, come originale riforma italiana dell'hegelismo. Riforma che certo si può discutere ed è stata discussa nelle sue linee essenziali, è possibile muovere molteplici critiche alla lettura che Gentile prospetta di Hegel, ad esempio il fatto che tende a trascurare ampiamente la fenomenologia dello spirito e ad attribuire molta più importanza alla scienza della logica. E tuttavia resta una riforma importante, resta un'importante svolta filosofica nell'Italia del Novecento e forse anche nella filosofia europea del Novecento, se come ha ricordato alcuni anni fa Salvatore Natoli con il suo importante studio su Giovanni Gentile, filosofo europeo, molte delle categorie che mette a tema Gentile nel proprio filosofare sono categorie che intrecciano e incontrano altri grandi temi della filosofia del Novecento, usserliana, ideggeriana, neocantiana e così via. La filosofia di Gentile è una filosofia che, come sappiamo, riforma Hegel e pone al centro l'atto puro. Tutto ciò che è, è nell'atto in atto che lo pone pensandolo. Da questo punto di vista, come via privilegiata al pensiero di Gentile, mi permetterei di suggerire la lettura della teoria generale dello spirito come atto puro. Certo, accanto ad esso si debbono leggere anche il sistema di logica, la riforma della dialettica hegeliana, il sommario di pedagogia, tutti gli scritti di Gentile debbono essere naturalmente letti, però suggerirei di avventurarsi nel pensiero di Gentile, per chi non fosse già dentro al suo filosofare, partendo dalla teoria dello spirito come atto puro, la teoria generale dello spirito come atto puro, che è un testo in cui Gentile, a partire da una critica di Berkeley, arriva a mettere a tema le proprie principali acquisizioni filosofiche. Non dimentichiamo il fatto che la filosofia di Gentile è importante, come già dicevo prima, anche per la formazione poi del pensiero di Antonio Gramsci e dei quaderni del carcere. Senza Gentile non si possono comprendere i quaderni del carcere. La filosofia di Gentile poi è importante anche per il fatto che, in qualche misura, mostra alcune contraddizioni del pensiero hegeliano, mostra come si possa andare oltre Hegel, che è una cosa che a noi pare ovvia e scontata, ma che non sempre lo è stato, se consideriamo anche il dogmatismo con cui talvolta è stato recepito il sistema hegeliano. La filosofia di Gentile è importante anche perché, in maniera ultra-hegeliana, in questo caso, tiene insieme la filosofia teoretica e la storia della filosofia. Gentile è storico della filosofia e insieme teoreta. Se si prendono le opere di Gentile ci si accorge che larga parte di esse sono consacrate al tema della teoresi e larga parte di esse sono invece dedicate alla storia della filosofia, in particolare anche alla storia della filosofia del Rinascimento e della filosofia italiana. Gentile, sulle orme dell'amato spaventa, prova a ricostruire la storia del pensiero italiano, identificandone la cifra specifica. Ma vi è rapidamente un ultimo motivo che vorrei ricordare circa l'importanza di Giovanni Gentile, un po' eterogeneo rispetto agli altri che ho menzionato prima, e che riguarda la riforma della scuola che egli ha attuato come ministro dell'istruzione fascista nel 1923. Ora, la riforma della scuola di Gentile fu detta da Mussolini la più fascista. In realtà di fascista non aveva molto, e anzi Mussolini dovette dire quella frase per giustificare Gentile al cospetto dell'establishment fascista che mai vide di buon occhio Gentile, addirittura si sospetta in maniera argomentata che come dietro la morte di Gramsci vi fosse il partito comunista, dietro quella di Gentile vi fosse il partito fascista, che mai ebbe modo di apprezzare veramente l'operato del filosofo di Castelvetrano. La riforma della scuola di Gentile, che certo può essere criticata per il classismo che la innerva, resta tuttavia, comunque la si voglia intendere, la miglior riforma della scuola che abbiamo avuto in Italia. La riforma di Gentile, intanto, ripeto, pur criticabile per il classismo che la caratterizza, è fondamentale perché pone al centro l'uomo. È una riforma in cui l'obiettivo non è, come oggi avviene, preparare al mercato del lavoro, espressione aberrante. La riforma di Gentile mira a formare esseri umani consapevoli delle proprie radici e della propria progettualità. Mira, cioè, a formare esseri umani in senso completo. Di qui il primato del liceo classico, sul quale Gentile in maniera benemerita insiste, rivendicando le radici culturali che fanno di noi degli italiani, degli uomini europei, degli uomini appartenenti a una storia che è quella avviata sin Grecia, passata per Roma e giunta fino al nostro presente, senza la comprensione della quale non possiamo avere nemmeno prospettiva futura, senza la conoscenza delle radici storiche, non viene nemmeno la possibilità del futuro, come Gentile ben mostra con la sua riforma. Riforma che è importante e che un po' alla volta, per un verso, questa riforma ha garantito agli italiani un primato dal punto di vista culturale nel Novecento, un primato nell'ambito umanistico, indubbiamente. Solo gli italiani sapevano il greco e il latino in maniera così stabile, così approfondita. È una riforma che tuttavia sta, un po' alla volta viene distrutta. Le ultime riforme della scuola, quali che fossero i partiti politici che le promuovevano, in questo senso credo che destra e sinistra non si siano distinte, perché a igual titolo hanno distrutto le acquisizioni benemerite della riforma di Gentile, le ultime riforme hanno programmaticamente abbandonato il progetto di Gentile. L'obiettivo, come sappiamo, non è più quello di formare uomini consapevoli del loro mondo storico, ma è quello di preparare al mercato del lavoro flessibile e precario. Quindi non di preparare teste pensanti e critiche, ma teste calcolanti e non pensanti, in grado solo di calcolare e di essere organiche al mondo della fattualità capitalistica, potremmo dire così. Non è un caso che oggi ricorra ministerialmente, nel gelido lessico ministeriale, la formula pensiero computazionale, formula aberrante, credo, orwelliana, quasi nella sua tragicità, con la quale si sottolinea esattamente il fatto che l'obiettivo per la scuola non è più quello gentiliano di produrre teste pensanti, ma è quello invece di creare teste calcolanti, computazionali appunto, pronte a calcolare e a non porsi mai interrogativi sul senso espressivo del loro mondo storico e magari anche a criticarlo. Per queste ragioni, credo a cui se ne potrebbero affiancare moltissime altre che qui tralascio, credo si possa ripartire da una rilettura di Gentile, congedandosi pacatamente dall'adamnazio memorie, riconoscendo pacatamente che la grandezza di Gentile è tale a prescindere dalla sua adesione al fascismo, alla Repubblica di Salò, pretendere di liquidare Gentile perché aderì al fascismo sarebbe come pretendere di liquidare Aristotele perché giustificò la schiavitù nella politica o di liquidare Heidegger perché aderì al nazismo. La grandezza filosofica di questi pensatori è talmente grande che è impossibile liquidarli per le loro colpe, se vogliamo chiamarle così, politiche. O sarebbe come liquidare Luca cinquanto stalinista. Ecco, per queste ragioni, credo che dobbiamo pacatamente rimetterci, soprattutto noi italiani, ma auspicabilmente anche gli altri popoli, a rileggere Giovanni Gentile e la sua teoria attualistica.